ciao amico mi stanno affanato ci abbuffo da paura è tutto gratis ora mi resta e me ne vado vamo che forte fa ste cose che praticamente li fa tutto quanto a rilento amico perché non ti la puo farla è solamente per chi possiede la barca però già ieri quando sono arrivato l'ho visto che era aperto il bagno e funzionava nelle docce quindi non ho approfittato sti cazzi ora è andata Daniela a fare questa doccia perché vabbè sono andato prima io per vedere come era c'è pure l'acqua calda amico c'è da paura da paura da paura tutta gratis ora c'è nata Daniela che si deve lavare pure i capelli dai allora sono le otto e quindici le otto e un quarto se siamo svegliati da un'oretta guarda guarda dove sto da quella parte là c'è sta la spiaggia libera tutto offerto dal comune grazie comune del Circeo gentilissimo ti ho rottato da paura da ieri amico mi sono fatta la barca ti piace? magari amico magari quanto costerà una barca del genere? una cifra una cifra sto andando di là e il pesce è coordinato stamattina a pranzo se fanno i spaghetti con vongole, cozze e gamberettini stasera non lo so e il pesce è coordinato stamattina torri no no cozze, gombole Buon amare! Stamattina! 70 euro! E' un po' buono! 70 euro! Un pietro di sottotitoli! 8! 8! 3! Grazie! Grazie mille! Grazie mille! 5! 5! 5! 6! 6! 7! 8! 9! Cozze, vongole e gamberetti. Cuciniamo, va! E poi si raccoglie questa. Guardate qua, tu ce l'hai a bordo perché devi portarlo ai tuoi cuore. Ci siamo quasi, amico, eh! Buon appetito, amico! Buon appetito, amico! Amico, la pasta era veramente veramente buona. Buona, buona, buona! Allora, ho finito adesso di mangiare e sono venuto a farmi... a fare... a fare pisce, a... ai miei trecani! E se sta da paura c'è sta sto venticello bellissimo! Proprio bello, bello, bello! Che c'è? Eh? Eh, ma è morta! Una medusa! Una piccola medusa, amico! E se c'è? No! No! Who face, cani? E se? Chau, che c'è? Non, come? Che c'è? Oh! Non! Non, che c'è! No! Non, non! E lo spio? No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sa che la pasta, mamma mia, me ne sono mangiata, io e Daniele ho buttato mezzo chilo di pasta, mi è avanzata, saranno avanzati 150 grammi. Se siamo mangiati quattretti, quattretti in due, dava paura, amico. Vabbè quella mi la mangio stasera però, che buona, pesce fresco, buona buona, ho mai riuscito a bene, meno male. Amico! Ma tra un pochetto mi faccio una bella passeggiata da solo, amico, senza cani, perché che i cani è impossibile fare una bella ripresa, cioè devi stare sempre a controllare. Quindi, mo' che se ne vanno a dormire dentro al lento, riesco da solo e faccio una bella ripresa. Vediamo un attimo che esce fuori. Amico, amico, io non so manco perché sto a parlare, mi sta a piaccio, ma perché parli? Amico, amico, ha parcheggiato un piccolo catamarano, ma proprio piccolo, piccolo piccolo. Che spettacolo che è, oh! E' una piccola anteprima, eh, amico, del video che sto a caricare, eh. Purtroppo qua non c'ho internet, quindi mo' mi preparo tutti quanti i video e poi quando torno a casa, che c'ho internet, carico tutto. Oh, ieri, guarda che ho comprato. Carino il fareto, eh. E poi ho preso pure tre calamite, guarda. Ok.